Ben tornati a tutti. Oggi è giovedì, 5 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo sagittario. Invito amoroso a casa vostra. Gran bella serata oggi, almeno nelle vostre intenzioni, con l'oggetto delle vostre brame come unico invitato di riguardo, a cena da voi. Spignottare all'ordine del giorno, perfezionando ricettine sfiziose ma superleggere, già collaudate per non rischiare figurace. Ma sarà per l'emozione o l'opposizione della luna, già offuscata da Nettuno, le vostre creazioni si rivelano subito un fiasco, o rinviate l'appuntamento o ricorrete a un catering, l'eccesso di desiderio fa brutti scherzi. Complicazioni sentimentali, specie per coppie annoiate, magari si va oltre le intenzioni, ma per sfuggire alla routine si comincia a flirtare un po' con Don Giovanni o la magliarda della compagnia, poi da cosa nasce cosa è patatrack, La frittata è fatta. Obbligo di riflessione sugli eventi passati che dovrebbe generare prudenza e buon senso. Molti consigli che arrivano da più parti, ma anche nella scelta di quello giusto bisognerà essere prudenti e attenti. Potrebbero esserci noie legali o giudiziarie legate al vostro passato. I single hanno bisogno di un periodo di profonda riflessione sul loro passato e scorgere negli errori commessi le ragioni dei loro insuccessi. La vostra gelosia è pari alla confusione che talvolta vi attanaglia, avete il cuore leggermente smarrito che va alla ricerca di qualcosa che forse esiste solo nei sogni. La perfezione non è di questo mondo. Prima di sera potreste essere raggiunti da piccole notizie inattese. Alcune di queste potrebbero riguardare l'aspetto sentimentale. Ricordate che avete davanti tutto il tempo necessario per prendere decisioni anche importanti. In amore se ancora non hai trovato la persona adatta a te, la serata si presenta favorevole per l'inizio di un nuovo e valido rapporto. Potrai vincere l'ammirazione di una persona che ti sta a cuore. Fidati dell'intuito. Non seguire gli altri. Fai a modo tuo. Soldi. Spese. Un pizzico di gelosia non guasta mai, con il vostro partner chiarite una situazione senza essere oltremodo polemici. Buoni nuovi incontri, oggi potreste averne qualcuno inaspettatamente. Dimostrati coraggioso. Prendi le iniziative. Qualcuno è invidioso. Sarai attraente. Sono favoriti gli impegni nella coppia e i progetti a lungo termine. I nati di giovedì potrebbero ricevere una dichiarazione d'amore o una telefonata molto. Affettuosa. Non fate nessun passo senza aver consultato oggi qualche amico fidato a uno specialista del settore in cui intendete muovere i vostri passi. Oggi potreste perdere qualche oggetto a voi caro. Rivalità in amore e sul lavoro, oggi Mercurio sembra aver scritto nel vostro cielo la parola difficoltà. Per uscirne indenni dovrete far ricorso a tutta la vostra diplomazia e attendere l'evoluzione degli eventi. Sappi distinguere quali sono le battaglie degne di essere combattute e quali invece sono da lasciare. Di solito siete svelti e convinti delle vostre idee, ma adesso state attraversando una fase nella quale vedete macchie grigie dove prima vedevate solo bianco o nero. Passate indenni le eventuali piccole bufere di pochi attimi e di rimette in scioltezza ogni controversia. Non abbandonatevi a facili sentimentalismi, perché fino a quando tutto non sarà finito, non potrete né gioire né disperarvi. Quadro planetario abbastanza promettente, confermato dall'ottima posizione di Venere, che è ospitata nel segno vostro fidato alleato dell'Aquario. La vostra buona educazione, il Savoir Faire, la capacità di trattare col prossimo in modo fluido e disinvolto, vi saranno di grande aiuto. Benefico per il vostro segno continua a muoversi anche giove in ariete, a portarvi occasioni di provarvi nelle discipline sportive, nelle attività agonistiche, specie se siete nati nella seconda decade. Spenderete tutto il vostro tempo a pensare a questioni che non concernono il vostro ambiente lavorativo e familiare e questo, potrebbe essere notato da chi vi sta intorno, corredato anche da qualche scontro. Invece di continuare imperterriti per la vostra via, dovreste fermarvi e dedicare un po' di attenzione in più a quello che avviene intorno a voi, liberarvene e poi tornare ai vostri piani e lucubrazioni. Luna frizzante all'opposizione nel segno dinamico e acuto dei gemelli, può significare uno scontro di opinioni, visto che si abbraccia a Marte, oppure un incontro di anime, appassionato anche magari non vorreste, perché innamorarsi è sempre un affare complicato che può cambiare la vita o almeno scombinarla. Ecco perché siete sul chi vala, intrigati da un lato, spaventati dall'altro. Amore ed Eros. Tutti malmostosi e immosoniti, semplicemente perché non vi capite e non riuscite a trovare un terreno di intesa, il partner insoddisfatto continua a chiedere la luna che voi non siete in grado di offrirgli, contemporaneamente le rispettive famiglie criticano l'uno o l'altro di voi due, attribuendovi vicendevoli colpe, del tutto immaginarie. Scrollateveli di dosso e andatevene a spasso voi due parlando dei progetti per l'anno appena cominciato. Cari sagittario, in questo nuovo anno dovete impegnarvi per togliervi quell'aria spocchiosa e da comandante che vi rende antipatici agli occhi di molti. Solo così può migliorare il rapporto con i colleghi. In amore serve più elasticità con il partner, per evitare inutili discussioni. Quando fate delle scelte importanti non pensate solo a voi stessi, regola d'oro che vale specialmente se le decisioni possono avere effetti anche sugli altri. Detto ciò, non resta che parlare con il partner. Il buon aspetto tra Saturno e Venere si verifica oggi per favorire occasioni di incontro fortunato se siete singli e se siete nati in novembre. Una bella componente passionale vivifica il rapporto di coppia, sia che siate in una relazione di lunga durata oppure se intrattenete un incontro occasionale, o ancora se siete in una relazione che state lentamente e pazientemente costruendo. Contate su questa bella esplosione di eros che tende a investirvi e a regalarvi momenti indimenticabili. Giove è costantemente al vostro fianco se siete nati in novembre. Lavoro e denaro. Casa caotica, come la vostra anima. Mettere ordine sarebbe un'ideona, ma chi ne ha voglia? Anche per questo voi e il partner vi rimpallate a vicenda in convenze, col risultato che tutto rimane com'è. Peccato davvero, perché fare spazio e cambiare volto all'ambiente cambia anche l'anima e dopo il repulisti, si vive e si respira meglio. In prospettiva un affare con un interlocutore astuto e intelligente, sarà un bel braccio di ferro e non è detto che lo vinciate voi. Sono necessari cambiamenti inattesi su un progetto su cui avete lavorato. Siate flessibili. Dovrete integrare le idee altrui. Confidate nel fatto che le modifiche apportate saranno davvero le migliori. Fatelo con un sorriso. Vi trovate attenti, dinamici, sempre pronti allo scatto questa giornata in ufficio. Specie se siete nati nell'ultima decade e se fate un lavoro a contatto col pubblico, nel commercio, nella vendita, riuscite a ottenere risultati davvero invidiabili. Benessere. Se soffrite di malanni cronici o avete intolleranze, oggi non dovete sgarrare, ogni strappo alla regola può scatenare problemini piccoli e grandi. Ci mancherebbe altro, iniziare l'anno giù di tono. Nuove energie e tanta voglia di fare vi stanno travolgendo. Rigore e disciplina vi stanno facendo bene sia al corpo che allo spirito. Avanti così. Per lei, al disordine in casa fa riscontro quello emotivo, impossibile avanzare un invito galante in questo caos, lui se la darebbe a gambe. Per lui, innamorati sì ma non convinti, in lei c'è qualcosa che vi sfogge e che non riuscite a definire, prima di fantasticare sul futuro, indagate sul suo passato. Colore delle emozioni, perla. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 5, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.